Ok, partiamo con il presupposto che non c'è nulla di più difficile di riprendere una vecchia abitudine. È un po' come quando dopo tre mesi di vacanza si deve tornare a scuola e un pochino non ti senti in grado di riuscirci. Poi si scopre che in realtà in pochi giorni la tua mente si riassetta e semplicemente tutto diventa naturale, cosa che spero che accada anche a me. Double buongiorno a tutti ragazzi, mi mancava proprio dire questa frase e sono tornato. Sono tornato dopo un periodo molto molto particolare della mia vita, nel senso che ho iniziato come una normalissima pausa influenzale che mi ha colpito prima del Natale, nella quale insomma non mi sentivo né ero in grado sinceramente di fare dei contenuti spessi come piaceva a me. Ho dato poi, una volta che era passata, quel filino, quell'assaggino del ricominciamo da capo, che come avete visto insomma è avvenuto attraverso per esempio il video storyline eccetera. Ero molto contento di aver ripreso diciamo la carreggiata. Purtroppo è successa una situazione familiare molto molto dolorosa che ovviamente è cominciata come penso che chiunque ha vissuto un lutto si comincia insomma con tanta agitazione per andare avanti e indietro dall'ospedale. Insomma le condizioni di salute di un familiare che non sai come andranno a finire quindi per giorni non sei occupato solo mentalmente ma anche fisicamente e poi successivamente quando non c'è più nulla da fare ovviamente ragazzi metabolizzazione del lutto che non è proprio la cosa più semplice. E' successo in un periodo tra l'altro dove ero lontano dal mio pc principale, avevo preparato qualcosa come abbozzo ma sarebbe servito un lavoro in più e quindi sono andato avanti per quello che potevo attraverso i video brevi. Avevo organizzato anche un bellissimo torneo nella mappa al quale vi ringrazio di aver partecipato i pochi che ci sono stati, ne faremo un altro nel momento in cui potrò pubblicizzarla meglio e potrebbe non mancare tantissimo. E quindi raga catena causale di eventi questa qua non è un video per scusarmi o per ottenere approvazione da parte vostra, la realtà oggettiva è che qua il contenuto principale è mancato da un mese, è già passato l'anno quindi secondo me possiamo andare nella seconda parte del video quindi abbandonando al perché verso il come, come faremo quest'anno all'interno di Double Blue Gamers, quali sono i miei obiettivi di lungo periodo. Proprio perché abbiamo nominato prima il torneo io comincerei con l'elefante nella stanza, le mappe creative. Le mappe creative sono state veramente la svolta dal punto di vista proprio della linfa vitale creativa che mi ha assorbito durante quest'anno. Se da una parte contemporaneamente possiamo dire che Fortnite ha abbandonato tutto l'interesse da parte della storyline sono veramente contento di aver costruito almeno per quello che è appunto il mio mondo diciamo così qualcosa che mi appaghi da quel punto di vista che mi dà voglia di creare, di intrecciare storie, di creare ambienti, ambientazioni, narrazioni eccetera eccetera. Il riscontro è stato incredibile perché io ripeto dalla mappa pubblicata il 18 febbraio non avevo mai utilizzato creativa veramente, non avevo mai realizzato qualcosa di questo tipo e iniziarlo subito a gamba tesa chiamiamolo così nel senso che il tuo progetto è banalmente tra mille virgolette. La costruzione di una mappa che abbia una lore interconnessa tra queste mappe con una storia che prosegue, personaggi che continuano ad agire all'interno delle mappe ma contemporaneamente devi giustificare la singola mappa sul perché funziona così. Insomma potevo partire più leggero facendo la classica red versus blue scammosa come fanno tantissime persone o insomma normali semplicemente creator. Sapete che non è assolutamente il mio taglio, non è assolutamente la mia posizione anche perché con tutta l'umiltà del mondo vi dico non sono assolutamente un programmatore, sto studiando meglio per poter realizzare la prossima di mappa che effettivamente si vedrà molto bene la UFN dove sta. Però raga ve lo dico cioè io sono abbastanza incapace da quel punto di vista poi magari un giorno ci sarà un grande team dietro il DBGCU e io farò solo la parte diciamo della creatività e scrittura però per il momento ecco mi sa che ho espresso più da quel lato che non dall'altro. Ma ripeto sto lavorando per poter creare ancora un sistema più figo dove anche il gameplay che non sottovaluto, sono contentissimo delle due mappe che ho realizzate adesso, possa splendere e soprattutto essere un po' più scintillante mi viene da dire così. Quindi la nuova direzione che abbiamo intrapreso o comunque ecco una parte del canale che ora è dedicata a questo è stata francamente ragazzi ve lo dico anche a livello professionale un successo per me perché è stato un anno difficilissimo su Fortnite e riuscire a fare funzionare qualcosa che tra l'altro non dipende al 100% dal gioco e su cui appunto avevo esperienza zero è stata una delle soddisfazioni più grosse sinceramente dell'anno e non credo assolutamente di cambiare rotta, mi piacerebbe anzi riuscire a farlo carburare quello step in più per ripeto magari un giorno formare un team vero e proprio con il quale forse possiamo puntare un pochino più alle stelle anche magari a livello, sto parlando ovviamente per ipotesi però mi piacerebbe molto, doppiatori, realizzazione di musica originale, ok? queste cose qui. Piano piano, step by step ce la faremo forse se le cose carbureranno in un certo modo e speriamo che sia così anche perché diciamo che la concorrenza su Fortnite è un po' complicata considerando che ho conosciuto meglio il mondo delle mappe creative e l'orrore è stato parecchio ragazzi, risultare efficaci in un mondo dove funzionano le mappe scandalo o che insomma funzionano per effetto shock del giocatore quindi ballando sulle regole o prendendo ip non proprietarie cose per cui Epic francamente ha preso sinceramente poco i provvedimenti è difficile cioè stiamo alzare la posta dal punto di vista produttivo in un mondo che ti ricompensa per il momento ancora così poco per la qualità è dura però ecco sono orgogliosissimo di quello che abbiamo realizzato fino ad adesso la prossima mappa sarà secondo me incredibile e niente quindi vi ringrazio perché è stato veramente un colpo a segno che tiravo nel vuoto all'inizio dell'anno scorso e che è andato non dico al 100% appieno perché non sto nella top 10 dei creatori di Epic ma per essere partito da zero ragazzi io bacio per terra e vi ringrazio tutti quanti per il supporto immenso che avete dato alle creazioni ma proprio un amore veramente raga che prescinde magari quello che abbiamo pubblicizzato nei vari shorts l'utilità singola del fatto di avere delle esperienze eccetera cioè proprio gente interessata a vedere come sarà questa ambientazione, cosa ci propone, qual è la storia che va avanti cioè questo a me piace ok e credo di essere più bravo in questo ambito e il fatto che in tanti insomma ci abbiano posto attenzione per me è qualcosa di incredibile quindi grazie mille per questa parentesi parlando di Fortnite allora l'anno scorso è stato decisamente problematico nel senso che avevo già anticipato che i tempi non sembravano molto piacevoli all'inizio dell'anno scorso rigonfermo questa cosa con questo piccolo slide finale che c'è stato intorno a novembre e dicembre che però non mi sembra, questa poi è un'opinione mia che se volete discutiamo insieme toccare proprio le corde che ci interessano del canale nostro perché? dal punto di vista narrativo ora è tutto in divenire per carità del cielo però parlo veramente degli ultimi accadimenti mi sembra che non c'è così tanto da analizzare, da parlare, da discutere abbiamo visto che Epic ha ridotto drasticamente la presenza degli eventi live che sono un pochino ecco quegli agglomerati che poi danno un senso al spiegare e voler conoscere la storia e soprattutto nonostante ripeto la costruzione di questa stagione è buona credo che rimanga molto su quel piano ok? non aspettatevi missioni, non aspettatevi grandi sviluppi anche perché ripeto nel momento in cui non c'è da costruirci un evento sopra è molto più semplice fare delle trame abbastanza più lisce, più etere, più sfumate e quindi io credo che il canale dal punto di vista di Double Blue Gamers analizza la storia di Fortnite sia un pochino claudicante ora è un discorso che in realtà abbiamo già affrontato per chi segue bene il canale nel video di God of Thorn dall'altra parte c'è stato un grande ritorno di player all'interno di Fortnite cioè questo non si può negare tanto che che cosa dovrei fare? dovrei ricominciare a fare quei video diciamo antologici sulla community per dire tipo quello che feci in passato sui 4Kid o iniziare a discutere di cose che sinceramente vi parlo dal punto di vista personale credo di aver già trattato su cui credo di non aver neanche cambiato troppo idea se posso dirvi la verità da giustificare dei video nuovi e non credo quindi che nonostante ci sia tantissima nuova gente o gente di ritorno che adesso sta giocando a Fortnite per cui potrei anche farmi bello con una community nuova non lo so se ho voglia e soprattutto creativamente non so se ho l'energia come vi parlavo no? ho tanta energia creativa per le mappe poca nel rimettermi a spiegare gli stessi concetti che ho già espresso in tantissime sedi due anni fa, tre anni fa quando erano un pochino il cuore della situazione dal punto di vista delle news perché no? perché non continuare a discuterne e soprattutto se una news che comprende una scelta di Epic ci porta magari un piccolo ragionamento assolutamente rimarremo con quel piglio critico però ricominciare a parlare di questioni che abbiamo già trattato mille volte non lo so cioè so che converrebbe al canale ma non so se è la direzione che voglio intraprendere posto quindi che il focus sulla storia è un pochino scemato dal punto di vista di Fortnite poi tutto si può riprendere e in quel caso semplicemente ci si lavorerà con grande entusiasmo da parte mia, ve lo assicuro spero che il video vi sia piaciuto insomma quello sulla storyline e il prossimo che sta arrivando ancora vale la pena secondo me per quest'anno per quella che è la mia visione iniziare un pochino ad allargare l'orizzonte Double Blue Gamers ripeto l'ho già detto all'interno del video dedicato però lo voglio esplicitare ancora meglio credo che Double Blue Gamers nel 2024 deve diventare in parte una questione sull'espansione del concetto delle storie uscire dall'ambito di Fortnite e iniziare a parlare di storie di videogiochi non semplicemente il discorso vi spiego la trama di ma analizziamo, parliamo, discutiamo della narrativa all'interno di vari videogiochi ci vengono in assist quest'anno due uscite nella prima parte dell'anno che mi interessano moltissimo cioè Little Nightmares 3 e Poppy Playtime 3 entrambi 3 di cui effettivamente abbiamo già trattato i giochi precedenti con sinceramente un grande entusiasmo della community che ha seguito quei gameplay il che mi fa piacere è il momento di confezionare il canale anche per quel tipo di proposta però da parte mia cioè, cosa intendo vi ricordate quei video insomma in cui vi ho promesso mille volte che avremmo parlato più approfonditamente di trama, personaggi, eccetera di quei mondi che abbiamo visitato analizzato e giocato insieme in live ecco, è il momento di farli è proprio questo il momento in cui io quest'anno voglio investire su questa caratteristica quindi parlare veramente delle storie che ci hanno appassionato con un piglio analitico, critico quello che vi pare prendetela come vi pare non mi voglio atteggiare a niente semplicemente come persona che può darvi un punto di vista su qualcosa perché credo sia importante perché ho veramente letto tanto quest'anno continuerò a leggere altre cose per potermi potenziare dal punto di vista come fosse un videogioco dal punto di vista insomma dell'apparato critico quindi ecco voglio veramente darvi qualcosa perché Fortnite non mi soddisfa più da quel punto di vista forse una volta era più soddisfacente adesso non proprio e quindi voglio anche iniziare questa piccola stradina qui ok ragion per cui la questione delle live ragazzi è decisamente non dico cambiata ma ridimensionata proprio perché non c'è tempo di fare tutto quanto quindi per il momento poi uno cambia piani anche dopo due settimane sto cercando di dare una direzione ok a quello che faremo credo di fare meno dirette in questo periodo ma sono molto contento ecco tornando lì al discorso sempre dei successi di aver capito come gestire le live dopo 3-4 anni che le ho fatte ovvero ricaricherò come già sapete e se non lo sapete seguite mi raccomando quel canale le live integrali sul canale delle live in modo che siano recuperabili da tutti visionabili riconsultabili e perché no magari se qualcuno vuole farci freebooting o cose del genere dal punto di vista magari ecco di sezioni specifiche siete liberissimi di farli contemporaneamente se c'è un video particolarmente figo su un argomento che abbiamo trattato in live lo posso ritagliare lo metto su Double Blue Gamers e poi l'integrale lo trovate sempre all'interno del canale delle live dopo tot tempo bastava semplicemente affacciarsi alla finestra e vedere quello che fanno colleghi americani da cent'anni ho capito anch'io come si fa funziona questa formula e quindi andremo avanti da quel punto di vista quindi non vi aspettate più le live al giorno era già da due credo mesi che fosse così ci sarà sempre una scaletta dedicata potremmo un attimino cambiare il concetto cioè forse sto capendo che non è l'ideale creare una live tematica al giorno ma fare più cose all'interno della live stessa ma ne parleremo e quindi da quel punto di vista punto di vista delle live eccetera credo che abbiamo chiuso seguite quel canale sta andando andava perché ovviamente le live non le faccio più da un mese quindi ora bisogna farlo ricarburare stava andando molto bene come idea e quindi grazie mille continuate a supportarlo che secondo me può funzionare ultimo punto tanto l'elefante nella stanza bisogna sempre discutere forse ho già nominato la creativa come elefante quindi c'erano due elefanti in gioielleria a sto giro ops questione dell'avatar allora è stato il cambiamento anche un pochino forse repentino possiamo chiamarlo così all'interno dell'anno credo l'anno scorso che non posso dire assolutamente sia stato accolto bene quanto la creativa anzi io speravo che la discussione a riguardo diventasse meno importante sulla forma nel momento in cui ho deciso di approcciarmi a questo modo di fare le cose in realtà non è andato esattamente come pensavo cioè c'è stata veramente tanta parte delle persone che secondo me sono quelle che seguono meno il canale ma fa niente che hanno veramente scassato le palle prima perché l'avatar era femminile l'ho fatto maschile però ti nascondi eccetera io continuo a dire che chi non conosce il canale forse non ha capito che tipo sono ma io ho fatto tutti i video possibilmente escluse le like perché sono una necessità senza faccia i tiktok in generale i video più brevi che facevo li ho fatti sempre senza faccia in voiceover perché non fa parte semplicemente delle mie non so prerogative cioè non sono un animale da palcoscenico che si deve mettere in mezzo preferisco scrivere i testi e parlarne sopra accetto forse solo che la voce sia la mia ma non mi ritengo assolutamente bravo d'altra parte il problema vero che se vogliamo evolvere Double Blue Gamers sarà necessario affrontare prima o poi è il fatto che a un certo punto si spera ci saranno anche delle ragioni di incontrarsi parlo per esempio se accadrà mai siamo ovviamente nel campo delle ipotesi a varie fiere eccetera quindi non si può assolutamente rinnegare la propria persona fisica come parte insomma della propria immagine volente o non volente e vi volevo solo dire che è stato estremamente importante per me quest'anno a livello di rivalutazione fisica perché mi ha permesso di rimanere intimamente con me stesso magari a voi non ve ne frega nulla ma si è trattato di un percorso che nonostante sia stato difficile mi ha portato appunto a riprendere in mano la mia vita dal punto di vista salutistico ok non credo di essere arrivato assolutamente perché io ho avuto problemi di questo tipo fin dall'inizio della mia vita ok quindi sto cercando di lavorarci molto voglio solo dirvi che è anzitutto un espediente questo dell'avatar per passare bene tempo con me stesso dal punto di vista dell'accettazione personale sono convinto che sia una fase ok non credo sinceramente che lo farò tutta la vita credo che una volta che avrò raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato avrò abbastanza fiducia in me stesso da poter tornare come facevo le cose prima anche perché ripeto bisognerà vedersi bisognerà incontrarsi mi farebbe molto piacere vivere quella parte da creator assolutamente e quindi sono semplicemente contento di aver educato passiamo il termine il mio pubblico a questa possibilità cioè che se non riuscissi in determinate fasi della mia vita a sentirmi a mio agio ad essere diciamo sotto i riflettori sono contento di aver espresso creato una possibilità alternativa per far funzionare le cose da questo punto di vista vi ringrazio perché capisco che si perde in parte l'approccio empatico nel momento in cui c'è soprattutto una reazione indiretta qualcosa lo capisco benissimo raga ma è stato finalizzato al mio benessere finalizzato al mio stare meglio e vi assicuro che ci sono risultati potete vederlo se volete su instagram seguendomi perché ovviamente ho fatto vedere come stavo qualche mese fa e quindi non rinnego questa scelta perché è stata decisiva per un attimino riflettere sulla mia vita cosa che non facevo sinceramente da quando ho iniziato questo lavoro e aiutarmi a uscire da una situazione che non mi piaceva dal punto di vista fisico ok sono contento di averla presa perché tutto sommato il risultato è stato positivo al netto di tantissime persone che sono spietate ragazzi utilizzerò solo questo termine cioè non hanno la minima cura come posso dire della persona cioè del comprendere che dietro uno schermo anche se vedi un avatar digitale o senti solo una voce perché tanti applicano ovviamente la scelta ancora più conservativa e giusta solo far sentire la propria voce ti massacrano magari dietro a un nick che non esprima assolutamente il loro nome e un'immagine di profilo che solitamente è un cartone animato quindi figuratevi quanto loro si espongono però criticano chi non si espone e quindi niente vi ringrazio per chi è stato vicino a questa scelta che l'ha compresa umanamente ecco io non credo francamente non so neanche disegnare non potrei brandizzare questa cosa ho imparato a fare le iart ma non sono un disegnatore per cui avrebbe anche diciamo uno scopo questa cosa qui è stata semplicemente una casa sicura per me stesso che durerà ancora vi dico questa cosa potrebbe smettere da un giorno all'altro ma semplicemente è qualcosa che ha funzionato per la mia persona e quando non ci sarà bisogno non la utilizzerò e quando ci sarà bisogno la utilizzerò video programmatico di 20 minuti dove secondo me mi morderò le dita perché sicuramente abbiamo mancato qualcosa i timestamps vi aiuteranno a ricordare mi raccomando se siete capitati qui ma la vedo dura se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi codice Lelex continuate a fare i supporti perché dai prossimi video ovviamente si ringrazieranno persone che supportano il prossimo aggiornamento di fortnite è tra una settimana quindi abbiamo una settimana un attimino di riscaldamento e poi vediamo dove andiamo a finire ci vediamo alla prossima grazie ragazzi grazie per la pazienza soprattutto vi voglio bene e quindi grazie se dopo un mese che non mi ero fatto vivo hai cliccato questo video e ti sei interessato alla situazione veramente apprezzo grazie alla prossima